bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono il risultato cancellato 1 farò la recensione di un film del 1974 symptoms l'incubo dei sensi in inghilterra ellen invita l'amica ann che ha da poco litigato con la sua amante nella sua dimora di campagna isolata in mezzo a un bosco quello che dovrebbe essere un tranquillo soggiorno presto si rivederà essere un vero incubo per ann il mio voto a questo film è 7 ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto mi sono piaciuto molto il film l'interpretazione della sceneggiatura e di genere dell'orrore la durata è 1 ore 32 minuti il regista josé ramon larraz la regia è buona bravo regista l'attrice è angela pleasance brava attrice nel film anche peter wagen mike grady lorna helil brown marie paul melix ronald o'neill raymond hantley nancy nevinson saluto anna guardate questo video lasciate dei commenti lasciate dei like iscrivetevi al canale seguitemi su instagram arrivederci e al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto